La Fabio Perini SPA ha presentato a It's Tissue il suo nuovo profilo tecnologico e digitale per la produzione di prodotti tissue, ovvero le nuove soluzioni per gestire le macchine, le linee e i processi produttivi che definiscono il mondo del digital tissue. Tutto questo aiuta ad avere delle fabbriche intelligenti che consentono non solo di massimizzare l'efficienza delle linee di produzione e dell'intera fabbrica, ma soprattutto di rendere semplice e intuitiva l'interazione tra l'uomo e le macchine, aumentando così la sicurezza nell'operare con esse. Bene, il futuro qui è basato sulla intelligenza, noi crediamo tutti che da ora in poi, se le macchine non diventano intelligente o più vicine possibile all'uomo, sarebbe difficile seguire avanti in una maniera competitiva, quindi tutto questo che si sta facendo qua e un pochino anticipare il futuro. È un lavoro degli ultimi tre anni, molto duro, ha costato tanta energia e tanta passione, però credo che vediamo roba molto interessante qui. Ad It's Dissu la Fabio Perini ha presentato in anteprima la nuova linea Constellation, frutto dell'esperienza di più di 80 ribombinatrici vendute nel mondo in questi ultimi tre anni. Una linea innovativa che permette di avere una finestra operativa di processo mai avuta prima e quindi aumentare l'efficienza produttiva indipendentemente dal tipo di tissue presente nella bobina da trasformare. La nuova linea permette inoltre di settare i propri parametri adattandosi automaticamente alle caratteristiche della carta. L'evento è stato anche l'occasione per la Fabio Perini per ricercare nuove figure professionali che conoscano metodologie affermate in altri ambiti ma nuove nel mondo industriale del tissue e professionisti che sappiano gestire i big data e abbiano esperienza nella creazione di architetture IT moderne.